A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai Riprendere a giocare, riprendere a sognare Riprendere quel tempo e rincorrere di tanto È Natale, è Natale, si può fare di più È Natale, è Natale, si può amare di più Oltre 10.000 lavoratrici e lavoratori del commercio hanno preso parte alla grande manifestazione unitaria organizzata a Milano per protestare contro lo stallo negoziale e i tavoli aperti con le associazioni datoriali della grande distribuzione organizzata, del sistema cooperativo e del commercio al dettaglio e per ribadire la ferma contrarietà sulle proposte della Feder Distribuzioni Perché siete qua oggi a manifestare così tante persone? Per far capire a chi è rimasto dentro che siamo in tanti fuori e dimostrare che ci sono tante persone che combattono per loro Speriamo che lo capiscano perché io oggi non dovevo neanche essere qua perché il mio contratto è stato rinnovato ma penso che la cosa più bella sia essere qua a condividere con i miei amici della Fisaskat e cercare di dare qualche diritto in più alla gente che se lo merita che si alza la mattina presto e arriva la sera tardi magari anche famiglia La massiccia adesione alla seconda giornata di sciopero e mobilitazione nazionale è ancora una volta segnale del malessere dei lavoratori di questo settore prevalentemente donne che a distanza di quasi due anni attendono un dignitoso aumento salariale e un avanzamento della normativa contrattuale su diritti, tutele e welfare Abbiamo trovato grande difficoltà perché il contratto le associazioni datoriali hanno soprattutto cercato di impostarlo contro i diritti dei lavoratori per ridurre il costo dei lavoratori per ridurre i diritti, per ridurre i salari Noi chiediamo aumenti dignitosi per i nostri contratti Alla manifestazione hanno partecipato anche i segretari confederali CGL Cislewil, Susanna Camusso, Gigi Petteni e Carmelo Barbagallo I contratti di lavoro vanno rinnovati Questo è un contratto di lavoro a lungo scaduto Sembra l'idea che rinnovare i contratti sia una cosa del passato Rinnovare i contratti è una cosa del futuro E questa è una manifestazione straordinaria In una categoria particolare In un momento particolare Con una grande partecipazione Ma una partecipazione di visibili e di invisibili Perché assieme con noi stamattina ci stanno tanti altri migliaia Di persone, di ragazzi che ci stanno scrivendo Che chiamano che magari per un contratto interinale Per una stagionalità sono là a lavorare Ma sono qui col cuore, con l'attenzione, con la condivisione, con la passione Perché è una manifestazione di futuro